14 febbraio san valentino sacerdote e martire la chiesa onora in questo quattordicesimo giorno di febbraio la memoria del santo sacerdote valentino che subì il martirio verso la metà del terzo secolo le devastazioni del tempo ci hanno privato dei dettagli della sua vita e delle sue sofferenze così che si sa molto poco del nostro santo questa è la ragione per cui non ci sono lezioni della sua vita nella liturgia romana il suo nome tuttavia è sempre stato onorato in tutta la chiesa ed è nostro dovere venerarlo come uno dei nostri protettori durante il tempo della septuagesima egli è uno di quei tanti santi martiri che ci incontrano in questo periodo del nostro anno e ci incoraggiano a non risparmiare alcun sacrificio che possa restituirci o a crescere in noi la grazia di dio pregate dunque santo martire per i fedeli che sono così perseveranti nel celebrare la tua memoria il giorno del giudizio rivelerà a tutti noi i tuoi gloriosi meriti o intercedi per noi affinché allora possiamo essere fatti tuoi compagni alla destra del grande giudice ed essere uniti a te eternamente in cielo antifona formica questo santo lottò fino alla morte per la legge del suo dio e non temeva le parole dei malvagi poiché era posto su una roccia ferma preghiamo concedi ti supplichiamo o dio onnipotente che noi che solennizziamo la festa del beato san valentino tuo martire possiamo per sua intercessione essere liberati da tutti i mali che ci minacciano per cristo nostro signore amen grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti